ciao a tutti sono manuele e ho frequentato il master di fotografia qui alla romeuro academy tra i vari progetti presentati per le varie materie è stato selezionato il progetto di fotografia di ritratto per la professoressa roberta krasnig in questo progetto ho racchiuso delle regole in un manuale un doppio manuale dove vado ad illustrare delle regole base che ogni fotografo dovrebbe eseguire per fare una buona fotografia riguardo la mia esperienza alla romeuro sicuramente è un bilancio positivo perché ha contribuito ad arricchire la mia formazione professionale nell'ambito della fotografia un altro tassello sicuramente importante da aggiungere alle esperienze positive nel percorso intrapreso la romeuro academy è quello che mi aspetta tra qualche giorno agli esodo per le fasi pre finali e finali di miss italia purtroppo dovrò convivere per due settimane con 70 truccatrici e 220 miss ma ce la posso fare